Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, membro del Governo, oggi discutiamo del cosiddetto decreto aiuti quater, che se non fosse per questo nome che gli è stato attribuito potremmo definirlo davvero in tanti modi, tranne che un decreto di aiuti e di contributi. Vede, Presidente, in questo provvedimento il Governo stanzia circa 14 miliardi per contrastare il carro energia e per sostenere le imprese. Ora, mi ricorre doveroso precisare che 10 di questi 14 miliardi il Governo Meloni non fa che ereditarli dal precedente esecutivo Draghi e a fronte di questo devo prendere atto di conseguenza che ci si impegna di fatto soltanto a investire 4 miliardi, 4 miliardi utili, secondo questa maggioranza, a mettere un freno all'emergenza senza i quali che ci troviamo ad affrontare. Un intervento che a questo punto, capite bene, di coraggio non ha neppure la contezza, neppure il profumo e sinceramente io stento ancora a credere che sono questi i tanto sbandierati aiuti a famiglie, a imprese, ai lavoratori italiani di cui purtroppo forse ci si è riempita un po' troppo la bocca, soprattutto in campagna elettorale. E aggiungiamo peraltro a questo che la proposta di soluzioni messa in campo per contrastare il caro energia non è altro che una bella storia di propaganda politica che fa tutto l'opposto di quello che invece andrebbe fatto per incentivare ad esempio l'unico strumento capace di rendere davvero indipendenti tutte le famiglie italiane dal punto di vista energetico, dato che parliamo in questo decreto proprio di come alleviare la crisi energetica in corso. Infatti questo esecutivo decide oggi di utilizzare proprio un provvedimento denominato aiuti quater per ammazzare definitivamente una delle misure più importanti sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e sto parlando con colleghi dell'omicidio messo in campo del super bonus. Ora non contenti raggiungete il fondo quando pensate di intervenire sul caro energia facendo un salto nel passato. Sì colleghi perché in realtà in questo decreto siamo di fronte a un provvedimento che guarda al ritorno al fossile. Un decreto che incentiva a tuffarsi nel fossile. Altro che mari puliti, altro che tutela della sicurezza dei cittadini, altro che tutela dell'ambiente, altro che come si chiama quel ministero? Politiche dei mari. Quindi ce ne faremo una ragione ma chi non se ne farà una ragione sarà il Paese e presto ve ne chiederà contezza perché di fatto questo governo Meloni oggi propone come soluzione non l'utilizzo emergenziale del gas di pozzi già esistenti. No, non fa questo. Voi così scrivete una norma DOC che ne garantisce altri di pozzi. Nuove trivellazioni. Dunque siamo di fronte al quadro del delitto perfetto. E mi pare abbastanza evidente che un decreto così costruito e fino a questa mattina in discussione in commissione bilancio per discutere e per approvare qualcuna delle nostre proposte emendative che invece sono state tutte bocciate. Ecco un decreto così non può ricevere una nostra valutazione superficiale perché noi siamo chiamati a fare politica, siamo chiamati non a fare i ragionieri del ministro delle economie e finanze, siamo chiamati a dare una valutazione più profonda, una valutazione politica che sia la sintesi di una comunità che è seriamente preoccupata e quella comunità non siamo noi, quella comunità è quella che sta al di fuori di questo palazzo e che voi continuate a non ascoltare. Una comunità a cui diamo voce e che pure ha creduto di poter essere guidata da una classe politica che li aveva illusi di pensare alla crescita dell'economia del paese. Perché illusione? Parlo di illusione perché in realtà questo percorso non si costruisce su principi, non si costruisce su valori, non si costruisce su una strategia precisa e non si costruisce su un programma preciso. Non è stato così, perlomeno questo è quello che avete raccontato, perché ogni vostro provvedimento porta invece oggi nel grembo un pericoloso retroscena per tutti i cittadini, per le famiglie e per le imprese che ormai non ascoltate più. Sembra davvero che con il popolo eravate disposti a parlare finché si era in opposizione, finché parlare con il popolo potesse essere utile a reperire e a strappare, diciamo, la verità più voti possibili. Una volta che questi voti li avete ottenuti, una volta che siete arrivati lì al governo, però avete buttato la maschera e guardate ci avete messo tre mesi a dimostrare chi siete nella realtà e cosa volete davvero. La Premier Meloni, per esempio, che sventolava sì ai referendum, come diceva prima la mia collega Fontana, tra le grida di un'opposizione tra l'altro molto, molto, molto limitata, perché qui di maggioranza ci sono sì e no cinque membri oggi ad ascoltarci. Ricordo che sventolava sì ai referendum per dire basta le trivellazioni, basta l'inquinamento, basta un governo ipocrita servo dei poteri forti. Queste erano le sue parole del passato. Oggi però è seduta in poltrona, accenna a sorrisi di, come dire, timida pacatezza per rassenerare i cuori. Però questi sorrisi, colleghi, vedete, sono traditi da tutti quei momenti di sconcitata arroganza in cui si gridava proprio in quest'aula e proprio da quest'altra parte dei banchi di governo e ci sono momenti che noi abbiamo, come dire, fossilizzato nella nostra mente. Il ministro Giorgetti, per esempio, più e più volte ormai ci ha ripetuto la solita litania che ormai stenta a trasformarsi in preghiera e ancor meno in desiderio esaudito, ribadendo ad oltranza che non ci sono risorse. Ecco, se dovessi risalire soltanto a qualche settimana fa, e parlo della legge di bilancio, potrei fare un elenco infinito di tutte le risorse che sono state trovate e soprattutto di come sono state utilizzate, perché direi che quello è stato un utilizzo alquanto discutibile, per non dire bizzarro. E allora, se in questo decreto è vero che troviamo qualche piccola agevolazione per le imprese, per il pagamento delle bollette di luce e gas, per un nuovo credito di imposta per bar, ristoranti e piccole attività artigianali, è altrettanto vero che sono crediti di imposta, che non si fa in tempo ad utilizzarli, che già sono svaniti, perché pensare ad un breve termine non significa aiutare le imprese. E per tramite suo Presidente voglio rispondere anche a interventi precedenti che parlano di essersi schierati, questa maggioranza schierata al fianco degli enti locali. Beh, noi questa mattina abbiamo chiesto che almeno gli enti locali non fossero tassati sugli extra profitti che si sono creati grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili. Anche questo ci è stato bocciato. Quindi andatelo a raccontare ai vostri sindaci che cosa avete fatto questa mattina sul decreto aiuti quater. E poi sapete benissimo che si tratta, questo lo sapete bene anche voi, che si tratta di un intervento talmente insufficiente che davvero è vergognoso dire che vi siete adoperati per essere al fianco dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, addirittura delle amministrazioni locali. E in più aggiungo che sono misure ereditate e prorogate dal precedente governo Draghi. Lo dicevo già in premessa. Guardate, un governo, ve lo ricordo perché evidentemente l'avete dimenticato, quello Draghi, un governo di breve durata, nato attorno a una piccola visione politica e che proprio il partito di Giorgia Meloni, il partito dei fratelli d'Italia, riteneva pessimo. Forse non lo ricordate ma i vostri colleghi ricordano benissimo che veniva definito il governo dei peggiori. E venne definito soltanto qualche mese fa in questo modo, quindi non stiamo parlando di anni. E oggi però se ne ereditano non soltanto le misure ma state ripercorrendo le traiettorie che sono state tracciate proprio dal governo Draghi. Ed è preoccupante questo atteggiamento, lo è ancor di più se vado a sottolineare altri aspetti. Perché purtroppo sta diventando una costante infilare all'interno di un provvedimento che nasce con uno scopo ben preciso, tanto che gli attribuite e lo definite con un preciso nome. Poi dentro c'è una serie di norme, ci sono una serie di norme che non c'entrano assolutamente nulla. Ecco norme che servono soltanto per accontentare questa o quella lobby o nei casi peggiori per piantare la propria bandierina di partito lasciando trasparire una posizione solo e completamente ideologica di questa maggioranza. E così non andremo da nessuna parte, questo lo sapete, ma lo dovete andare a dire al popolo che vi aspetta fuori da queste porte. Noi ci troviamo a discutere oggi un testo irricevibile, sia per il modus superandi, sia per il modus cogitandi, perché si interviene su due provvedimenti, su due temi che assolutamente ci fanno rabbrividire come Movimento 5 Stelle, perché parliamo, come già detto, del ritorno alle trivellazioni, ma oltre questo aggiungiamo il depotenziamento, la morte del super bonus 110%. E mi soffermo su quest'ultimo caso, parliamo di una misura che oltre a essere all'avanguardia in termini ambientalistici, si è dimostrata una soluzione più che concreta in termini economici. Una cosa è sicuramente evidente, questa maggioranza si è rimangiato tutto quello che ha sbaglierato in questi anni, dal MES, e lo vedremo a breve, alle trivelle, dal super bonus al PNRR, che oggi crea tanta preoccupazione in questa maggioranza per poterne gestire, per poter mettere le mani su quelle risorse, senza ringraziare chi quelle risorse e le ha portate a casa. Ma di questo siamo ormai abituati, siamo abituati a una maggioranza che non ringrazia chi gli ha permesso poi di gestire delle risorse importanti per il Paese e per il futuro e per la crescita delle nostre famiglie. Prima colleghi eravate contro le trivellazioni, ora non solo ne siete a favore, ma appunto ne andate a creare altre. Prima eravate tutti i santi giorni in tutte le piazze d'Italia a manifestare a favore del super bonus, fianco a fianco, al fianco degli imprenditori e dei lavoratori, ora lo demolite. Avete decretato la morte di questa misura che voi stessi invece avete difeso fino a qualche mese fa e lo state facendo, mettendo in pericolo le imprese, ma lasciando inascoltate anche moltissime famiglie con la meschina giustificazione di volerle responsabilizzare al versamento di una quota a parte che di fatto le famiglie di ceto, medio, basso sapete benissimo che non potranno mai permettersi e questo lo fate senza pudore. E con un accenno di vergogna, forse in questo momento vi imbarazzate voi stessi delle misure che state portando avanti, perché addirittura avete promesso di togliere le accise sulla benzina. Ora che siete voi al governo di questo Paese, voi, i migliori, tra i migliori, che fate? Sì, fate i tagli, vero, ma non tagliate le accise, tagliate gli sconti e lo fate in barba tutti gli aiuti che avevate garantito di dare agli italiani. E così via via, guardate, potrei stare qui tutta la settimana, proseguire all'infinito. Presidente, in questo momento di discussione parlamentare io voglio sintetizzare un ragionamento nel merito, però passando anche per una valutazione in termini economici. Sono dei profili quelli economici, tanto cari, soprattutto al Ministero dell'Economia e Finanze, però di fatto restano tanto cari soltanto in fase di dibattito, perché poi quando si arriva alla fase decisoria i profili economici e finanziari sono tra i primi ad essere ignorati, tra i primi ad essere sovvertiti e con grande maestria vi piace poi riporli nei vostri cassetti fingendo che non ci siano risultati in termini economici e mi riferisco sempre alla misura del super bonus perché continuate a fingere sulla concreta forza di questa misura, perché la ritenete un costo e non un investimento per la crescita del nostro Paese. Questo è grave perché è un modus cogitandi completamente errato. E la misura del super bonus che ora questa maggioranza ripudia insieme a tutto il suo governo, guardate, ha dato un contributo del 22% alla crescita del PIL nel 2022. E non lo dico io, non lo dice il Movimento 5 Stelle, lo riporta il report Cresme del novembre 2022, soltanto tre mesi fa, due mesi fa. Eppure nonostante questi dati parlino da soli, il decreto aiuti, quello aiuti quater che ci sottoponete oggi, prevede il passaggio dal 110% al 90% dal 2023, quindi da adesso. Una limitazione della platea dei beneficiari secondo requisiti reddituali e l'impossibilità della cessione del credito d'imposta, che invece c'era il problema, il cuore del problema del super bonus e che invece non avete avuto il coraggio di affrontare e di risolvere. Anzi, quando eravate dall'altra parte criticavate chi invece la soluzione ce l'aveva. Questo è assurdo. Questo taglio al super bonus determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica e andrà a penalizzare in particolar modo, come sta avvenendo sempre più spesso con questo governo, chi non ha possibilità economiche. Pensiamo agli interventi sugli interi edifici condominali, quelli condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, quelli che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e allo stesso tempo non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma. Sapete perché? Perché nella norma che avete scritto voi non possono, perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia di 15.000 euro. E come l'avreste definita una riforma di questo genere? Non l'avreste forse ritenuta una vera ingiustizia sociale? Per noi sicuramente sì e per i cittadini lo è. E per continuare, Presidente, per ricordare ancora a quest'Aula qualche numero, perché ultimamente la memoria di molti ci sembra che faccia cilecca, il super bonus ha contribuito ad una crescita record del 6,7% del PIL italiano nel 2021. In particolare, all'interno di questo più 6,7% le costruzioni hanno dato un contributo del più 1,8% alla crescita. Questo lo sapete che cosa significa? Significa che c'è stata un'incidenza del 27% sulla performance complessiva del PIL 2021. E ancora una volta non siamo noi a dirlo. Non è il Movimento 5 Stelle a dirlo, ma è l'ance nella nota dell'osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni 2022, presentata il 25 ottobre 2022, quattro mesi fa. E vogliamo parlare ancora dell'incremento record degli investimenti in costruzioni nel 2021? Bene, basterà che citi soltanto un numero, Presidente, per spiegare quanto questa maggioranza finge di ignorare. Il più 20,1%. E a questo la conferma dell'ottimo trend anche per il 2022. E ce lo vogliamo ricordare con un altro numero. Più 12,1%. Posso guardare tutta l'aula e mi sto rivolgendo a tutta l'aula, ma in modo particolare alla maggioranza. Lo dico, Presidente, perché c'è chi si sente troppo osservato. Allora, colleghi, voi potrete, anzi lo farete certamente, perché continuerete a portare avanti la vostra politica di partito o, anzi meglio, la vostra politica di più partiti. Perché se sarete tanto bravi da sopportarvi l'un l'altro per cinque anni andremo avanti così. Voi colleghi sicuramente porterete avanti questo provvedimento e lo farete, lo stiamo vedendo dalla Commissione Bilancio a quello che seguirà. Perché se le notizie di stampa sono vere, a breve ci imporrete la prossima fiducia su questo provvedimento. Vedremo. E voi colleghi sapete benissimo che porterete avanti queste norme senza ascoltare le nostre osservazioni. Però, ecco, io ve lo ricordo che quello che noi oggi riportiamo in quest'aula, quello che noi abbiamo discusso in questi giorni in Commissione Bilancio, non è altro che il disagio e la preoccupazione che abbiamo raccolto fuori da questo palazzo ascoltando migliaia di cittadini. Cittadini, famiglie, imprenditori, lavoratori, giovani che vi chiederanno conto di quello che state facendo e a cui non saprete dare una risposta. Perché ormai vi siete traditi da soli ogni giorno con le vostre decisioni, ogni giorno con un vostro provvedimento. E allora, in mancanza di queste risposte, io oggi chiedo a quest'aula di discuterlo insieme, questo provvedimento, di avviare un ragionamento condiviso se davvero ci tenete ad essere migliori. Perché guardate, per essere migliori. Bisogna perfezionarsi nel percorso, perché non si nasce con la camicia. E ci si perfeziona soprattutto ascoltando chi è da quest'altra parte del Parlamento, non chi ci critica, chi ci dà delle soluzioni alternative, delle soluzioni migliori. Ecco, ascoltando anche chi come me, come i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, non fa opposizione per il semplice fatto, il semplice gusto di farlo e di stare qui ore e ore a discutere di provvedimenti e dare aria alle trombe. Noi siamo qui perché vogliamo aiutarvi a registrare quello che i vostri occhi non vedono più, quello che le vostre orecchie non sentono. E quindi si potrebbe lavorare insieme per ottenere un risultato che sia il più possibile giusto e propositivo, non per questa politica, ma per il bene e la crescita del nostro Paese, perché dovrebbe essere un obiettivo comune. E io credo nel ravvedimento, Presidente, io credo che c'è sempre un tempo entro il quale ci si può ravvedere e soprattutto entro il quale questa maggioranza può permetterci di aiutarla, perché è importante che noi vi diamo una mano, considerate le enormi difficoltà che a Stento riuscite a gestire da soli, ormai è evidente. Quindi impegnatemi, iniziando questo nuovo anno, ad ascoltare le nostre proposte. Poi potrete anche metterci su il vostro cappello, dire che magari sono idee vostre, l'avete fatto tante volte, continuatelo a fare, ma permetteteci di aiutarvi, aiutarvi a raggiungere il vero obiettivo che la politica tutta dovrebbe avere a cuore. Invertiamo la rotta perché i cittadini italiani possano comprendere che tra le vostre premure non ci sono soltanto le poltrone, non ci sono gli interessi di partito, ma tra le vostre premure c'è il bene comune. Quindi ad oggi è palese a tutti che per voi una poltrona viene prima di qualunque altro bene collettivo, quindi avete l'occasione di smentire questa realtà, iniziare così il 2023. Noi siamo qui per tendervi una mano, accogliete le nostre proposte e date un segnale importante al Paese. Grazie.